nel nostro paese, su un tema importantissimo come quella delle vaccinazioni, sulla base di una decisione importante, se vogliamo quasi epocale da parte del governo, di introdurre o di reintrodurre dopo molto tempo l'obbligo vaccinale, con un piccolo dato che tutto questo è arrivato a pochissimi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, nel senso che la legge è stata approvata il 29 di luglio, pubblicata in gazzetta ufficiale mi sembra il 2 o il 3 di agosto, con una circolare ministeriale partorita dal Ministero della Salute il 16 d'agosto e con gli asili nido che aprono il 1 di settembre e le scuole dalle elementari in poi il 15 di settembre, quindi con una situazione, un'applicazione transitoria assolutamente concitata e che sta mettendo un pochino a dura prova la sua prima applicazione. Le regioni si stanno muovendo su questo un po' in ordine sparso, ponendosi, ritengo tutte due obiettivi, o meglio una serie di obiettivi, prima quello evidentemente di applicare una norma che è il principio contenuto della norma, il principio contenuto della norma non è quello di impedire ad alcuni di andare a scuola, il principio contenuto della norma è quella di portare tutta la popolazione italiana ad assumere la consapevolezza di vaccinare i propri figli, quindi anche in maniera molto forte come quella con l'introduzione dell'obbligo, per cui nella legge ci sono anche alcuni articoli per esempio legati all'informazione, delle risorse che sono destinate all'informazione, delle indicazioni molto precise date alle regioni, cioè di costruire percorsi, modelli, azioni di informazione e di formazione delle famiglie degli operatori, quindi il tema e l'obiettivo che ci si impone è quello di far vaccinare i bambini e dall'altro cercare quindi di applicare il principio della norma e di creare il minor numero di disagi possibili. La legge è chiara da questo punto di vista, dà delle indicazioni molto precise. Regione Lombardia ha cercato da subito di applicare la legge, cercando di farlo nella maniera più attenta a quelle che servono le indicazioni della legge, coniugando tutto questo con il principio finale, finale con le azioni che Regione Lombardia ha sempre messe in campo, perché voi sapete che noi abbiamo sempre fatto dell'informazione, dell'accompagnamento alla consapevolezza delle famiglie un valore assoluto della nostra azione e dal lato del creare i minori disagi possibili. E l'abbiamo fatto al metodo della Lombardo, senza copiare altri, ma cercando di fare le cose che ci sembrano essere le migliori, data il contesto italiano in cui ci muoviamo. E allora, l'abbiamo fatto prendendo dei contatti immediati con l'ufficio scolastico, addirittura prima dell'approvazione della legge, e cioè in turma metà luglio, con un incontro che ho presidito io insieme ai referenti dell'ufficio scolastico regionale, in cui abbiamo iniziato non solo costruito il tavolo permanente, ma a mettere giù delle linee in guida. comuni, poi l'ufficio scolastico è un po' stato fermato da un'indicazione del ministero, diceva aspettate la legge, vediamo come vanno le indicazioni che noi vi riformiamo, vi portiamo, ma quella è la prima indicazione che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto con delle circolari che sono state approvate dalla direzione regionale welfare per i primi di agosto e che sono andate a tutte le ATS e un'altra circolare che è stata approvata il 16 agosto. Regione Lombardia ha lavorato tutto agosto su questo tema, lo dico e lo risottolineo. Forse qualcuno non l'ha fatto e provo oggi a scaricare il suo regione, alcune polemiche nate di cui abbiamo avuto riscontro fatte da alcune amministrazioni comunali. Noi abbiamo lavorato sempre su questo, abbiamo fornito a tutti il massimo delle informazioni e delle disponibilità. Che cosa abbiamo messo al centro per agevolare e facilitare le famiglie nell'ottica di far vaccinare e di recuperare tutti coloro che non sono vaccinati? Noi invichiamo tutti a fare le autocertificazioni, questo è il modo più veloce e più facile per coloro che hanno fatto o sottolineano, pensano di aver fatto tutte le vaccinazioni, di manifestarlo. Chiaro? Quindi diciamo non correte i centri vaccinali, non c'è bisogno oggi di avere la certezza di aver fatto tutte le vaccinazioni, se ritenete di averle fatte perché vi ricordate di aver portato i vostri figli a fare, vi sembra tutto o meno. Fate l'autocertificazione, per fare l'autocertificazione ci vuole tra un minuto e un minuto e mezzo, a quelli a cui tremo un pochino la mano. Questo è il foglio, non mi si venga a dire che c'è un disagio o si crea coda compilare questo foglio. Questo foglio viene scaricato da tutti i siti dell'ATS, l'abbiamo inviato ai comuni, l'abbiamo inviato alle scuole e probabilmente recuperato in cartaccio dalle segreterie delle scuole. Quindi al più tardi, al 10 settembre o prima, si va nella scuola, si mette il proprio nome e cognome, il dato dove si è nati e la propria residenza, speriamo che venga immediato a tutti, che non c'è bisogno di consultare particolari documenti. Anche al sindaco Ibergo, lo ricordo, spero che si ricordi anche lui, dove è nato in maniera immediata, si fa una crocetta, anche questo ci vuole un secondo a farlo, si mette il nome dei propri figli, anche qui speriamo che tutti se lo ricordino, si mette in luogo e si fa una firma. Ci vuole un minuto a fare questo. Chi ha fatto l'autodichiarazione, per chi anche le ha fatte o pensa di averle fatte, abbiamo tempo, da qui al 10 marzo, di recuperare i certificati vaccinali. Noi stiamo strutturando un metodo per cui il certificato vaccinale potrà essere scaricato in originalmente valore legale, da essere depositato facilmente con un sistema ancora più facile di quello che abbiamo previsto oggi per avere contezza di quali sono le vaccinazioni che sono state fatte, perché se avete che oggi nel fascicolo sanitario sono già inserite tutto l'elenco, chiunque può andare a recuperarlo. Il metodo è un metodo che vuole dare il PIN, è spiegato in maniera molto puntuale, dettagliato, ma costruiremo un metodo ancora molto più semplice, perché oggi quello non è un documento che può essere scaricato avendo il valore legale, è una coppia che uno può cogliere, per avere l'originale bisogna andare al centro vaccinale, quindi si potrà scaricare tra ottobre e gennaio, stiamo lavorando con l'ombardia informatica semplicemente, quindi abbiamo sei mesi per farvi scaricare, per andare ai centri vaccinali a recuperarli, per evitare poi le code, per trovare tutti i metodi, quindi tutti coloro che hanno vaccinato in tutte le parti, non ho finito basta che fanno l'autocertificazione, è chiaro? Questo è il metodo più semplice, più veloce e più immediato. Perché non abbiamo inviato a casa le lettere come ha fatto qualcun altro? Allora, io ritengo, do un giudizio complessivo di questo governo, poco lo si indietro, io sono di centrodestra, questo è un governo di centrosinistra, se però il governo ha fatto una legge di un certo tipo, non l'ha fatta perché il sindaco di Bergamo la contestasse. Penso che il ministro Lorenzini, il ministro Fedevi, il presidente Gentiloni, quando hanno realizzato una legge che prevede le cose precise per il 2017, il 2018 e il 2019, non si sono posti l'obiettivo di dire garantisco a il sindaco di Bergamo un titolo e una foto sui giornali per poter lanciare la sua campagna regionale. L'hanno fatto per un motivo diverso, e cioè il fatto che oggi manca un anagrafo vaccinale nazionale e quindi il problema è quello che nelle regioni non hanno la possibilità di fornire a tutti i bambini che oggi sono presenti nel loro territorio con assoluta certezza la loro indicazione vaccinale. La regione Lombardia, che è la migliore, va indietro oggi fino al 1190. Io che sono seduto al tavolo degli assessori regionali, ci sono alcune regioni in cui i dati vaccinali sono inseriti sui programmi informatici dal 2015, alcune dal 2010. Ricordo che per esempio la regione Liguria ha mandato una mail dicendo se voi siete residenti e vi mandiamo a casa il vostro certificato se siete nati e siete stati residenti all'interno della stessa ASO. Se siete in un'altra ASO non abbiamo modo di verificare i dati perché non hanno un'anagrafe regionale, ma hanno un'anagrafe per ASO. Quindi alla fine all'ASO di Genova risulta in addendimento un bambino nato a Savora che si è trasferito a Genova e perché non hanno l'indicazione continua, tanto per dirvi una regione vicino a loro che ha fatto un'azione di test. Quindi oggi immaginare di mandare a casa rischiava di creare delle difficoltà. E io non mi voglio trovare per alto della situazione dell'evoluto Piemonte dove hanno inviato a 1500 bambini una letta dicendo che devono vaccinarsi quando erano già stati vaccinati per il morbillo, per provare a coprire delle difficoltà che ha creato il loro governo. Allora, la regione Lombardia, sapendo che ci sono queste difficoltà e che quindi un bambino che arriva dal Lazio, dalla Puglia, potrebbe noi non avere le indicazioni precise o qualcuno che... Abbiamo detto che la cosa più immediata, che non crea difficoltà e aperta e chiusa parentesi, ci evita anche di spendere nell'invio a casa oggi circa un milione di euro di lettere che secondo me sono soldi che conviene che spendiamo per fare qualche servizio sanitario piuttosto che inviare oggi delle lettere, no? E qui facciamo le autodichiarazioni, tutto è molto diretto e molto semplice e poi andremo a recuperare o a mettere a posto, direi, a conferire i documenti della maniera originale. Quindi la scelta che ha indicato il governo, perché il governo prevede questo, cioè che si facciano in maniera o le autocertificazioni, o presentare i certificati vaccinali, i libretti vaccinali, o le autocertificazioni per chi ha fatto le vaccinazioni, o la richiesta per chi non è vaccinato che può essere fatta in tre modi con la PEC e quindi con una mail, con un'indicazione di una posta certificata o con una raccomandata RR o con una, o presentando alle ASI una richiesta e presentando quindi alla scuola la copia del protocollo. Anche qui è una procedura comunque semplice.